L'omaggio fuori programma di Dario Fo al Dipartimento con un canovaccio improvvisato su appositi sketch per l'amico Umberto Eco. Per ricordare i tempi in cui non solo all'inizio non c'erano i registratori ma non c'erano neanche i libri. Il fondo Young che di giochi se ne intende collabora allo svolgimento in Aula Magna grazie alla biblioteca universitaria. Giochi di memoria all'Ateneo San Marinese, Umberto Eco parla di memoria dell'oca. Ecco fatto il becco all'oca, ne parlano studiosi illustri argomentando per il pubblico invitato a partecipare. Un enigma è stata questa lezione. La prossima è sul gioco dell'oca. Umberto Eco doveva chiosare della memoria dell'oca, poi scordandone il perché, dopo giorni, considerando il gioco dell'oca un non-sense, ha pensato di intrattenere gli astanti, spesso esterrefatti, su rebus e enigma. Mi disegno un'oca, fatto il becco, cioè ha intervistato lei, io sono a posto. È un enigma anche questo? È un becco dell'oca. È un nemotecnico anche questo? Ma è molto idiosincratica, ma in un asilo per alienati potrebbero prenderla sul serio. L'incipit di Eco è il nodo al fazzoletto, un gioco di memoria che il modesto cronista smemorato, ahimè, non sa più che cosa evoca. Tutto o forse niente sarà quel che sarà, domani si vedrà.